Musica Metropolitana 1 di Turino, lo Stato finanzi il completamento della linea. Autonomia differenziata, il Consiglio dice no al referendum. Sopraluogo del Presidente Nicco nelle valli Chisone e Germanasca, fortemente colpite dal maltempo di inizio settembre. Nuova edizione di Consiglio News, lo Stato finanzi il prolungamento della linea 1 della metropolitana di Turino. Via Libera da parte dell'Aula ha due ordini del giorno, affirma Movimento 5 Stelle e Lega. Il Consiglio regionale sollecita il finanziamento statale per il prolungamento della linea 1 della metropolitana di Turino da fermi con legno a Cascine Vica Rivoli. L'Aula ha approvato due ordini del giorno presentati rispettivamente da Sara Di Sabato, Movimento 5 Stelle e Fabrizio Ricca, Lega, che impegnano la Giunta a promuovere insieme alle amministrazioni comunali della zona ovest di Torino e alla città di Torino la richiesta dei finanziamenti necessari a completare i lavori e acquistare 12 nuovi treni. Parliamo di un'opera strategica per tutta l'area metropolitana, detto di sabato. L'aumento dei costi delle materie prime rende necessario reperire circa 25 milioni per finire i lavori, oltre alle risorse per l'acquisto dei nuovi convogli. Per questo abbiamo chiesto alla Giunta di farsi parte attiva nell'accelerare l'intervento dei ministeri competenti. Ricca ha parlato di impegno trasversale per completare un progetto strategico che servirà a migliorare la mobilità e a ridurre l'inquinamento atmosferico, oltre che a favorire crescita economica e riqualificazione urbana delle città coinvolte. Nel corso del dibattito sono intervenuti i consiglieri Roberto Ravello, Fratelli d'Italia e Alice Ravinale, Alleanza Verdi Sinistra. L'Aula ha respinto il referendum sull'autonomia differenziata. Il Consiglio regionale ha respinto a maggioranza la richiesta di indizione di referendum per abrogare la legge sull'autonomia differenziata. La proposta era arrivata dal primo firmatario Domenico Rossi, Partito Democratico. Una legge che produce diseguaglianze e rende il Paese meno competitivo. Non lo diciamo solo noi, lo ha detto il direttore alla CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, lo dice anche Confindustria. Quindi è evidente che questa legge è sbagliata. Stiamo discutendo di un'opportunità per la nostra regione e per il Paese, mentre il centro-sinistra strumentalizza, ha sottolineato in Aula in dichiarazione di voto, il capogruppo della Lega Fabrizio Ricca. Paolo Ruzzola, capogruppo di Forza Italia, ha dichiarato che si farà in modo che nessuno rimanga indietro e che il provvedimento venga applicato in maniera corretta. Sempre in dichiarazione di voto è intervenuto anche il capogruppo di Fratelli d'Italia, Carlo Riva Vercellotti. Fratelli d'Italia, convintamente favorevole per una nuova stagione di autonomia, un'autonomia responsabile, nella consapevolezza dell'unità giuridica ed economica del nostro Paese, che è il punto fondamentale, esattamente come importanti sono i livelli essenziali di prestazioni, che sono quelli che possono garantire servizi e diritti degni di un Paese civile. La nostra regione è fragile sotto molti aspetti, ha dichiarato la capogruppo del Movimento 5 Stelle Sara Di Sabato. Questa riforma diventerà un boomerang per il nostro territorio e provocherà la fuga del personale sanitario, danni dal punto di vista della competitività e dello sviluppo economico, disuguaglianze e discriminazioni. Critica anche la capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, Alice Ravinale. Nella replica l'assessore all'autonomia Enrico Bussalino ha chiarito che l'iter della legge sta andando avanti nel solco della legalità e nel rispetto della Costituzione italiana e che l'autonomia differenziata rappresenta un'opportunità per tutto il Paese. Provedimento importantissimo, aumenta l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa della regione Piemonte, quindi miglioriamo i servizi per i piemontesi, non togliamo niente a nessuno, facciamo un ragionamento pragmatico per cercare di migliorare sempre di più l'economia della nostra regione. Nel piano energetico ambientale del Piemonte il nucleare non è ancora inserito, lo ha affermato l'assessore Enrico Bussalino rispondendo a un'interrogazione di Vittoria Nallo, Stati Uniti d'Europa. Nel piano energetico ambientale PEAR non sono ancora stati inseriti gli impianti del ciclo nucleare. L'assessore alle infrastrutture strategiche Enrico Bussalino ha risposto all'interrogazione di Vittoria Nallo, Stati Uniti d'Europa. L'assessore ha spiegato che la regione non ha ricevuto in valutazione da parte del Ministero alcuna richiesta normativa riguardante l'energia nucleare e quindi questa tipologia non è presente nel PEAR. La consigliera di Stati Uniti d'Europa aveva chiesto come la giunta regionale intendesse muoversi alla luce delle recenti dichiarazioni dei ministri Gilberto Pichetto e Adolfo Urso che riguardano l'iniziativa governativa in materia di energia nucleare. In particolare aveva rilevato Nallo per valorizzare le competenze tecnologiche, scientifiche e industriali piemontesi. Per quanto concerne gli impianti a ciclo nucleare, ha continuato l'assessore, compete alla Direzione Ambiente una gestione residuale degli impianti nucleari piemontesi che sono in corso di messa in sicurezza e disattivazione. Gli impianti presenti in Piemonte sono la centrale nucleare Fermi di Trino, i depositi Eurex e Avogadro a Saluggia, l'azienda Fabbricazioni Nucleari a Bosco Marengo. La prima commissione si è riunita in seduta straordinaria al grattacielo della regione, un'occasione per visitare la struttura sede della giunta. La commissione bilancio e patrimonio ha visitato il grattacielo della regione Piemonte e al termine si è riunita in una sala del 42esimo piano della struttura. Il presidente Roberto Ravello ha sottolineato come questo edificio consenta risparmi di circa 18 milioni l'anno rispetto alle precedenti decine di sedi d'assessorato sparse sul territorio cittadino. Un'imponente opera di razionalizzazione logistica ed evidentemente economica con molti risvolti anche di risparmio energetico e di tutela dell'ambiente che deve essere sempre al centro di tutte le politiche pubbliche. La consigliera Monica Canalis, partito democratico, che aveva chiesto la visita della prima commissione ha parlato di due criticità. Io le concentrerei soprattutto su due elementi, l'acqua e l'aria, perché ad oggi non abbiamo ancora la certificazione della potabilità dell'acqua e non abbiamo ancora la certificazione sui filtri dell'aria. L'assessore Gianluca Vignale ha ricordato il grande impatto positivo della struttura per tutto il quartiere. Questo quartiere è quello che ha visto l'incremento immobiliare maggiore negli ultimi due anni e credo che il motivo principale sia legato alla regione. Ricordiamo che inizieranno ad aprire i cantieri di città della salute, cioè queste due grandi opere faranno di questa parte della città davvero una riqualificazione assolutamente importante. Il maltempo ha causato danni ingenti e grandi criticità. Non possiamo lasciare soli i sindaci. Queste le parole del Presidente Davide Nicco che ha effettuato un sopralluogo nelle Vali Chisone e Germanasca. Il Presidente del Consiglio regionale Davide Nicco ha effettuato un sopralluogo in diversi comuni della Val Chisone e Germanasca duramente colpiti dalle piogge torrenziali d'inizio settembre che hanno causato ingenti danni ai territori di Fenestrelle, Rur, Perosa, Inverso, Pinasca, Villar Perosa, San Germano Chisone e Pramollo. L'obiettivo della giornata è stato anche quello di manifestare la vicinanza delle istituzioni regionali ai cittadini e agli amministratori locali impegnati in prima linea per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di ricostruzione. L'esondazione e l'acqua hanno fatto veramente dei danni molto grandi sia alle parti pubbliche che ai privati. I sindaci dei comuni hanno fatto i lavori cosiddetti di somma urgenza, cioè quello per mettere in sicurezza le parti più pericolosi. Però naturalmente bisognerà poi fare i ripristini. Per i ripristini delle strade, della sicurezza dei fiumi, dei ri, ovviamente le risorse economiche sono notevoli. La Regione deve fare la sua parte. È stato un evento urbinale che ha colpito fortemente il nostro territorio e abbiamo subito parecchi danni sia come comune sia come privati. Siamo sicuri che la presenza del Presidente sia garanzia di un aiuto da parte della Regione. Continuare la collaborazione attraverso ogni forma di iniziativa. Questo l'intento espresso dal Presidente Davide Nicco a margine dell'incontro tenuto sia a Palazzo Lascaris con il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Luca Svisio. Un'occasione importante anche per riaffermare la disponibilità a organizzare iniziative congiunte su temi rilevanti per il territorio e la categoria, tra cui il fenomeno del sovraindebitamento, la promozione della legalità e la partecipazione attiva all'Osservatorio regionale sull'usura. Per questa edizione è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci!